E si sente la cura, c'è l'intervento di gestione. E si sente che c'è lo spirito, il lavoro, l'attenzione, anche se il laboratorio ha la sua data già in suoi anni. 2000, 2000, 3000. Quindi abbiamo fatto l'anno, stiamo sempre tentando di sistemare perché non è semplicissimo, perché l'adeguamento alle normative, deve essere sempre a quattro, comunque c'è una bella esperienza per tutti quanti, per i ragazzi, i genitori. Io ho visto gli sforzi in questo dibattito, sono tanti amici, sono qua, con Gianna, che è prossima, con un po' di anni. Sì, io ho visto metterlo giù in pavimento, proprio metterlo giù in istone. Allora, ai ragazzi ci fa tutto e in qualche maniera aggrapparsi sempre all'innovazione e alle cose che possono funzionare. È ovvio che poi le economie cambiano e l'economia è molto ristretta rispetto a una volta. L'economia è molto ristretta rispetto a una volta, ma nonostante questo qua, se c'è un euro viene speso per i ragazzi, da sempre. Quindi a proposito di investimenti... Grazie.